Il B-Fest di Bari piace, affascina e coinvolge soprattutto i giovani. La rassegna cinematografica internazionale si concluderà sabato con la serata finale in programma al Petruzzelli, ma per lo staff organizzativo i numeri sono già da grande kermesse. A metà del cammino a tracciare un bilancio parziale della manifestazione è il direttore organizzativo Angelo Ceglie. Soddisfazione per la qualità e la quantità degli eventi proposti, ma anche per la scelta felice di aver spostato l'edizione 2012 del B-Fest dall'inverno alla primavera. Gli ospiti che invece vengono da fuori sono molto soddisfatti sia dall'aspetto organizzativo del festival che dell'accoglienza che ricevono in città perché il pubblico li circonda affettuoso e loro hanno modo di scoprire e conoscere un territorio che ha fatto delle bellezze che noi ben sappiamo. A partire da Max von Sydow che si è fatto una gita intorno nella provincia, lo Corotondo, e quindi noi siamo molto soddisfatti di questo. Noi avevamo spostato il festival da gennaio a marzo anche proprio per cercare di accogliere i nostri ospiti con un clima più mite, un clima più favorevole e infatti così è stato in queste meravigliose giornate di sole. Loro vedo che hanno un gran piacere anche a circolare. Tanti VIP e gli artisti, molti dei quali di calibro internazionale, stregati soprattutto dalla nostra cucina, un aspetto della nostra terra che sembra mettere tutti d'accordo. È l'unica certezza che noi abbiamo prima che il festival inizi, che i nostri ospiti apprezzeranno la cucina, infatti puntualmente è così. Nel quinto giorno della manifestazione, intanto nello spazio dedicato agli incontri con gli autori dei film, è stata la volta dei protagonisti delle pellicole Terraferma, La criptonite nella borsa e Il gioiellino sulla strada di casa in missione di pace. Il film di Francesco Laggi, ha la sua prima esperienza da regista. Un film semiserio su dei militari in missione di pace nei Balcani e allo stesso tempo è la storia familiare di un padre e di un figlio che si detestano perché sono su due fronti opposti, il padre è un militare, il figlio è un pacifista molto agguerrito e quindi si fanno continuamente la guerra.